Ciao amici, Massimiliano per The Geekers, come sempre in questa lunga estate di prove tocca al Poco F6 presentarsi qui sul nostro sito per mettersi alla prova e vedere come ne esce. Come sempre si comincia con la prova delle fotocamere, 20 megapixel, quella che mi sta riprendendo adesso, e poi due sensori Sony, un 50 megapixel sensore principale e un 8 megapixel ultra grandangolare, una scelta che mira a contenere i costi di questo telefono che è un ottimo mid level dalle prestazioni molto importanti. Quindi vedremo come si comporterà alla prova delle sue fotocamere il Poco F6 qui, come sempre, a The Geekers. Buona estate a tutti! Grazie 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 a tutti!